Noi torniamo di nuovo a essere indagati, non siamo più imputati. Così l'avvocato Pamela Bonaiuti, difensore di Lara Turelli, la comandante della Polizia Municipale di Agliana, sospesa dall'incarico dopo le indagini che l'hanno coinvolta insieme all'agente Claudia Villucchi, rappresenta l'esito dell'udienza che si è tenuta nel Tribunale di Pistoia. È stata infatti accolta l'eccezione presentata dalla difesa della Turelli, pertanto il processo a suo carico si interrompe, la sua posizione è stralciata e il procedimento dovrà ripartire dall'interrogatorio di garanzia. Avevamo chiesto l'interrogatorio, l'interrogatorio non c'erano tutti gli atti processuali, nello specifico non era stata depositata la copia forense, quindi noi dovevamo vedere questa, non era gli atti e abbiamo fatto l'eccezione. L'eccezione è oggi accolta. Ora si accolgono degli scenari processuali molto positivi per la mia assistita, innanzitutto dovrò studiare seriamente il problema della custodia cautelare. A mio avviso decade la misura, ma questa è una cosa che dovrò studiare. Per il resto hanno stralciato la nostra posizione, il procedimento Villucchi invece va avanti. Quindi sono felice e prendo atto che questa è stata un'ordinanza forte del Tribunale di Pistoia, forse anche un messaggio alla procura, questo sì, perché non penso fosse mai successo fino adesso, una cosa del genere. L'indagine che coinvolge Laturelli, condotta dai carabinieri di Quarrate e di Montale, è scaturita nel novembre 2021 con l'esecuzione delle misure cautelari agli arresti domiciliari per la comandante e per l'agente, oggi revocati rimanendo solo l'obbligo di firma, con l'accusa all'epoca dei fatti di atti persecutori, falso ideologico, calunnia e rivelazione di segreti di ufficio. Le indagini presero avvia a seguito delle dichiarazioni rilasciate da un ex collega delle indagate che aveva denunciato il furto delle chiavi della sua auto, che sarebbero state sottratte dall'armadietto della sede della Municipale Aglianese, nel quale erano costudite. Sì, io sono ancora un po' frastornata per quello che è successo, perché mi sembra di fare un po' il gioco dell'OCA, però ho trovato un collegio molto attento all'eccezione sollevata e ho fiducia nella giustizia che venga fuori la verità perché, ripeto, non è quella che avete letto sui giornali, la mia verità.